Frantoio Frattini di Pollenza, ho il piacere di parlare con Emanuela, siamo nel periodo della raccolta delle olive, come è andata l'annata e cosa producete? Ciao a tutti, io sono Emanuela e sono collaboratrice in azienda di famiglia, siamo a Pollenza, abbiamo un impianto di estrazione dell'olio, quest'anno è stata un'annata ottima perché il prodotto è di ottima qualità e le quantità sono discrete. Molino, quindi anche farine? Sì, infatti da sempre abbiamo questa azienda che produce farine, quindi trasformiamo il grano, sono due anni che produciamo farine con solo grano marchigiano, abbiamo centri di raccolta che mettono il grano per noi, lo conserviamo con il freddo e le farine non contengono conservanti. Dove vendete i vostri prodotti? I prodotti possono essere acquistati in loco direttamente presso il nostro punto vendita, che è anche la fabbrica stessa dove vengono prodotti, e poi presso i supermercati limitrofi o anche tramite spedizioni con corriere. Grazie. Grazie. Grazie.